Stati Uniti nella morsa della neve. È emergenza nello stato di New York dove la tempesta ha già fatto quattro vittime. Colpita soprattutto la città di Buffalo che si trova all'estremità orientale dello stato di New York dove sono caduti circa 90 cm di neve. Le temperature hanno registrato un abbassamento notevole fino a 7 gradi sotto la media stagionale con punte di meno 4 gradi. A Buffalo le scuole sono state chiuse e le autorità hanno emesso un divieto di circolazione. Sono preoccupato anche per domani, commenta questo autotrasportatore. La tempesta ha paralizzato diversi automobilisti sulla New York State Highway. A rendere non sicure le strade sono anche le raffiche di vento che soffiano alla velocità di 48 km orari. La perturbazione non è finita. Le temperature scenderanno ancora nei prossimi giorni.